Diamo ora spazio all'associazione Insight PR di Trani che si dedica alla promozione della città di Trani dal punto di vista della cultura millenaria, del multiculturalismo e delle religioni. Seguiamo insieme questo servizio che prego la regia di mandare in onda. Strategica, ambita, luogo dello spirito, è pragmatico, eterno luogo del mercato, con il mare a segnarne il destino e la costa a delinearne il profilo. Per le sue vicende, per la fisionomia, per le sue risorse, Trani concentra nel suo spazio tutta la storia del Sud. Quella di Trani è una storia complessa e fantastica che ha lasciato tracce suggestive. Tutte le dominazioni che si sono susseguite con eventi pacifici o drammatici hanno lasciato un proprio segno, non soltanto nell'architettura ma anche nella mentalità, nel linguaggio e nella cucina. Ecco perché noi sentiamo di offrire ai turisti non solo una visita guidata della città, ma anche un'esperienza che li aiuti a percepire con la sensibilità le belle complessità del paese. Qui c'è la stratificazione di tante fasi e culture visibili nel piccolo spazio di una città di mare, che diventa esemplare di ciò che tutto il meridione è stato e può continuare ad essere. in tutte le sue contraddizioni. Dietro scorrerie, guerre, assedi, avvicendamenti che paiono avere la gloria degna dei libri, compare la realtà di comunità di origini lontane, che arrivano per conquistare e restano qui, anche quando il vento cambia. Ogni cittadino, in ogni epoca, deve imparare a comunicare con altri abitanti, che parlano altre lingue, per quale scuola migliore se non il mercato. Di qui partivano crociati e pellegrini per la terra santa. Qui giungevano pirati e mercanti dell'islam in espansione. Qui trovava rifugio e luogo di espressione la comunità ebraica, con il suo contributo di spiritualità, pensiero e vivace fermento. Non si può dare mai per finito il ritratto di una città come questa, perché anche il nostro immaginario spesso ci condiziona e fallisce. Qui si spiega il perché del nostro atavico modo di gesticolare, per compensare la mancanza di parole conosciute nella lingua di un potenziale cliente. Nel mercato si gesticola e del nostro vivere costantemente in un grande bazar, è rimasta nella nostra comunicazione l'uso ampio dei gesti. Non si può dare mai per finito il ritratto di una città come questa, come non si può dare per conclusa una definizione del nostro sud e ciò che viene di chiamare contraddizioni. Mare e terra, guerra e mercato, dominazione e convivenza, sono soltanto complessità da accettare e da godersi. Grazie. 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 Grazie.